Musica Processo la partita, un programma di Sebastiani Giannicola a cura di Pietro D'Artufoli. Pietro buonasera. Buonasera. Allora stasera una bellissima partita, le squadre per due tempi hanno viaggiato nello stesso binario ma poi purtroppo i binari si sono separati, ci ne vuoi raccontare per chi non può vedere la vista? Sì, un'altra partita dell'Under 14, fase elite, Ascoli contro Sacrata, una Sacrata che è partita in sordina, molto nervosa. I primi due tempi li ho visti veramente nervosi senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Poi alla fine per fortuna ci si è riusciti ed è finita con un bel divario a dimostrare tutto sommato che la differenza in campo c'è stata. Quando hanno trovato la serenità sono riusciti finalmente a sbloccare la partita e a far pendere il piatto della bilancia dalla parte della Sacrata. Molto bello anche il gioco dell'Ascoli, mi è piaciuto, c'è un elemento, il numero 5, che ha avuto una percentuale al tiro di 3 micidiale, 4 su 5, una cosa incredibile. Un bravissimo giocatore, molto veloce, anche se ancora la fisicità non lo aiuta, però arriverà anche quella. Quindi non c'è poc'altro da aggiungere. La prossima partita mi cogli in preparato, dovrebbe essere il mercoledì prossimo per quanto riguarda l'Under 14. Sabato abbiamo l'appuntamento a Recanati per riprendere il discorso Under 15 di eccellenza. E domenica andremo tutti quanti a fare una bella passeggiata a Macerata perché le tre squadre del Join the Game del 98 sarà impegnata in questa fase che è oramai regionale. Vedremo se anche lì riusciremo ad avere una bella soddisfazione. Ok, bene, allora ci vediamo noi sabato alle 16.15 Reganati per la partita di Reganati di Under 14. Allora in bocca al lupo e forza sagrata? Forza sagrata sempre.